Buongiorno, sono Alex Planker e come detto rappresento la ditta Lecchi. Siamo qui a Schipase e abbiamo presentato le nostre novità dove voglio farvi vedere ancora una volta il nostro sistema guanto e bastone chiamato Trigger S, che è un brevetto della nostra casa madre tedesca dove la cosa importante è capire veramente che stiamo vendendo un prodotto di sicurezza. Come avete visto è lo sgancio di sicurezza che io oltre a 24 kg riesco a liberarmi dal mio bastone. È un bastone anche questo diciamo specifico in 100% in carbonio, canna 14 e assieme l'abbinamento ideale sarebbe questo guanto Fuse S completamente in pelle di capra con anche la funzione touchscreen come voi vedete che funziona veramente anche a guanto calzato io riesco diciamo ad attivare tutti i tipi di touchscreen piuttosto che iPhone. Siamo qui con Luca di Gabel che ci presenterà appunto bastoni prodotti dall'azienda. Volevamo sapere quali sono le peculiarità di questo prodotto. Sì, allora Gabel, l'azienda famosa dal 1956, produce bastoncini per sci, trekking e nordic walking. In questo caso, visto che si parla di fiera invernale, siamo qui con un bastoncino che utilizzano i nostri atleti di Coppa del Mondo. È il top di gamma nella nostra categoria ed è del modello SLK. Un tubo in carbonio e Kevlar ricoperto da un altro mezzo tubo in Ergal, quindi un alluminio molto leggero che consente anche l'utilizzo del paradita, cioè la protezione che viene utilizzata durante lo slalom speciale dai nostri atleti di Coppa del Mondo. Siamo nello stand di Dalbello e abbiamo appunto in visione lo scarpone Pantera. Vediamo di capirne un po' le caratteristiche. Buongiorno a tutti, ciao, sono Daniele. Il Pantera è una novità assoluta perché Dalbello ha una costruzione chiamata Carbon Design che praticamente è tutta aperta con questo linguettone. È una scarpa molto leggera e allo stesso tempo molto tecnica. Ha questa parte in gomba per non scivolare o per usarla anche da freeride, però si può usare benissimo anche in pista. O meglio, la usiamo in pista e qualche volta usciamo anche da fuori pista. Abbiamo questa leva che chiude la caviglia, dunque praticamente la caviglia non scalza mai, dunque è sempre ben bloccata il piede. Ha una forma confortevole, molto calda la scarpa. Abbiamo anche questo meccanismo che va a aprirsi il gambetto dallo scafo per camminare meglio in salita o camminare meglio mentre si va a sciare. Pantera 120.